Bene, vediamo cosa vuol dire andare a soddisfare un consumatore quando non è good enough, quindi non è abbastanza contento delle caratteristiche, delle feature che il prodotto attuale ha per lui. Quindi intanto vediamo Spotify, Spotify ha come sapete un'offerta premium, un'offerta free, osservando i consumatori di Spotify vedete che è molto ampia la forchetta della disponibilità a pagare, va da poco sopra 4 fino a 14 nell'ammontare del servizio base e vedete che Spotify ha fatto sostanzialmente un pricing di buon senso, diceva bene. Mettiamo 10 euro che più o meno è la quantità che uno è disponibile a pagare dopo un po' che si becca la pubblicità e prima può accedere comunque a conoscere il prodotto free. Ma poi se andiamo a vedere le diverse feature, le diverse caratteristiche, le cose che il prodotto vogliamo che faccia per noi, vediamo dove i consumatori non sono soddisfatti abbastanza, quindi good enough, satisfied. Allora vedete, la possibilità di sentire la musica offline 10 e 8, la possibilità di sentire la pubblicità 8 e 13, fare tutti gli scrivi che si vogliono 9 e 33, sentire ogni canzone 7 e 74. Vedete che questo mondo qui è un mondo che ci dice che alla fine tutti quelli che sono free non hanno tutta questa voglia di pagare i 10, forse l'offline che infatti è uno dei servizi che è più pubblicizzato, potrebbe essere una motivazione per arrivare a 10, a pagare i 10 mensili. Però guardate qua cosa succede, che quando invece si va a sentire la qualità del sound, si arriva a pagare, ci sono persone, consumatori che sono disposti a pagare fino a 22, quindi è importantissimo per un segmento la qualità e avere un'offerta per più di 5, chiaramente mettendo insieme quindi più utilizzatori, arriva a pagare 18,96. E qua vedete cosa ha fatto Spotify, ha cominciato a dire family and students, quindi tu puoi pagare individuale, stai nel prezzo standard, puoi pagare il duo che è un modo per spingere quelli che sono qua a farli insieme, puoi fare family fino a 6 account, vedete up to 5 users 18 e quindi paghi 16 e poi students, perché chiaramente devo andare a prendere tutti quelli che non hanno nessuna voglia di pagare molto, ma che hanno un minimo di disponibilità a pagare per quelle quattro feature, le prime quattro a sinistra. Vedete che però live fidelity, il sound buono è una cosa che all'inizio Spotify non ha diciamo più che tanto pubblicizzato, anche se in realtà fin dall'inizio c'era come feature e quindi cosa ha fatto Amazon? si è posizionato sull'HD, cioè ha detto vedete tutti gli altri streamer sono bassi, guardate invece l'alta definizione, l'ultra definizione di Amazon come sono buone e quindi è andato a cercare di posizionarsi verso questo tipo di consumatore che era disposto a pagare fino a 22 per avere lo streaming in HD e poi vedete a destra a sinistra ha cercato di comunque rispondere alle willingness to pay per alcuni feature che c'erano dentro Spotify per cui accesso a 50 milioni di canzoni in HD, questo è il principale proposta, però hai più beat che vengono dati e quindi ancora miglior qualità, ma hai anche milioni di canzoni tra cui puoi scegliere con migliore qualità e puoi ascoltare la musica come la vogliono, come pensano gli artisti dovrebbe essere, vedete che qui questa parte destra dove c'era la qualità è uno spazio che Spotify ha deciso di non coprire, che forse non voleva comprire, che forse non era la soluzione giusta per Spotify e quindi l'ha lasciato libero e Amazon un po' ci si è infidato tutti quelli che hanno Spotify sanno che adesso anche Spotify ha cominciato a spingere sull'HD, vedremo come reagirà Amazon in futuro e quali saranno le future caratteristiche, feature che il consumatore desidera in termini di altre cose che per cui non è sufficientemente soddisfatto e per cui è disposto a pagare in termini di willingness to pay.